Pa un joe, scritto da Giulio Fabbroni. Esterno notte. In un vicolo parigino, stretto e ombroso, sorge un negozietto al cui interno la luce è ancora accesa. L'insegna, decorata con l'illustrazione di un pupazzo a molla che schizza dalla scatola, recita Se si ne pa un joe. D'un tratto, uno starnuto squarcia la notte. Ghignol. A-ciu! E poi un sussulto. Ghignol. E un tonfo surdo. Voce di donna, voice over. Strano credersi, ma la prima volta che ho ucciso non è stato nelle selve umide del tonchino, fra i detriti di un villaggio incendiato, no, o nella pancia di una nave cargo, no. Esterno negozio, se si ne pa un joe. Giorno. Nonostante il vicolo sia intrappolato fra palazzi più alti, un po' di sole è arrivato, a battere anche sull'insegna di se si ne pa un joe. Come al solito, per strada non c'è nessuno. Calma, piatta. Qualche piccione sui cornicioni. Voce di donna, voice over. La prima vittima è un po' come il primo bacio. Non si può scordare. La mia è stata un commerciante parigino, negli anni Sessanta. Si chiamava Ghignol. Un grido femminile, i piccioni si alzano in volo. Interno negozio, giorno. Sulle mensole della piccola bottega, vari giocattoli dall'aria antica. Sul pavimento, immobile e supino, Monsieur Ghignol. Sessantacinque anni, stempiato, basette rossicce. Voce di donna, voice over. Eccolo lì. Elegantemente stecchito, a pancia in su. Suona il campanello. Dalla retrobottega si precipita, ciabattando, nenita. Cinquant'anni, asiatica, la domestica. Attenta ad aggirare il corpo del suo ex datore di lavoro, va ad aprire. Entrano due uomini. Voce di donna, voice over. Ah, state a vedere che adesso ci divertiamo. Vi presento Jacques, Jacquard, ispettore Jacquard, police suicidaire. Per qualche ragione l'ispettore Jacquard, sessant'anni, nasone, baffi, a spazzola grigi, riesce a parlare con l'accento francese, pur essendo a Parigi. Al suo fianco c'è Jacquard e questo è il mio assistente Montblanc. Montblanc, 45 anni, alto e paffuto. Stava per presentarsi, ma l'ispettore non gli ha dato il tempo. Richiude la bocca rispettoso. Jacquard inquadra il piccolo negozio con rapide occhiate e circospette. Da esperto, poi indica il cadavere di Ghignol. Jacquard, è questo il corpo? Nenita, contrita, fa sì sì con la testa. Jacquard si china, spazzando il pavimento con il suo impermeabile, e pianta due dita sul collo di Ghignol. Attende qualche secondo, impassibile. Nel frattempo Montblanc si fa un giro del negozio, gli scaffali sono mezzi vuoti. Passa un dito sulle superfici impolverate e urta la prima tessera di una lunga serie di domino. Jacquard decide che può togliere le dita dal morto. Jacquard, è morto. Nenita, contrita, fa sì sì con la testa. Jacquard, soffriva di cuore? Prendeva farmaci? Nenita, contrita, no, no. Jacquard, manca qualcosa qui in negozio? Nenita si guarda intorno e annuisce. Pensierosa. Nenita, molte cose, scaffali quasi vuoti. Ieri sera è arrivato Pacco, importantissimo da Vietnam per Monsieur. E ora non c'è Montblanc. Ispettore. Montblanc è dietro il bancone, trionfante, indica il cassetto aperto del registratore di cassa. Montblanc, entusiasta, è vuota. Jacquard schizza con gli occhi da Nenita a Montblanc. Nenita schizza con gli occhi da Montblanc a Jacquard. Jacquard torna a guardarla. Lei fa di nuovo per parlare, ma lui la blocca. Alzando l'indice deve dire la sua battuta. Jacquard. Qui c'è stata una rapina. Guarda il cadavere di Guignol. Col morto. Si alza con fluidità sorprendente per le giunture di un sessantenne e si dirige a gran passi fuori dal negozio. Montblanc si strizza per uscire dal bancone, che è un po' stretto, e gli strottorello là dietro. Montblanc, frettoloso. Anninita, voi lasciate subito la città. Voglio dire, non la lasciate affatto. Non lasciate la città per nessun motivo. È chiaro? Esco. Nonennita resta lì tutta intimorita con le mani in mano. Anche Guignol resta lì, naturalmente, voce di donna voice over. E vi meravigliate che io l'abbia fatta franca?